e soprattutto volevo ringraziare queste 13 ragazze che sono qui dietro alle quali vorrei da parte vostra un applauso perché ce ne sono alcune che arrivano molto lontano che sono qui con me per questa finale regionale a Santo Stefano ma non 13 perché sono poche, perché noi abbiamo cominciato tanto tempo fa ci sono 7 ragazze che hanno già vinto, quindi 13 e 7 fa 20 ma quelle 7 non possono partecipare qualcuna ha i mali di stagione, si dice così qualcuna magari non ci crede più, qualcuna è in vacanza, qualcuna torna il 18 noi siamo in 13, a me non porta male il 13, anzi io sono contento perché è un numero che mi porta fortuna per dare un attimo di tregua e di spazio alle parrucchiere che stanno finendo gli ultimi ritocchi tanto lo sapete che io da voi vengo volentieri anche perché mi diverte a cantare e quindi vi canto una canzone di Gino Paoli, la solita, perché quella mi viene bene non la devo leggere così non c'è nessuno che mi dice ma quello legge buonasera quello legge, quello legge, che è quella giuria che abbiamo qua sotto quindi un po' d'atmosfera che tanto questa Lorenzo ha la sua memoria quindi se mi metti un po' di luce bella, sai tipo cantanti quando escono fuori grazie dedicata a tutte le donne di Santo Stefano al mare grazie grazie grazie